Alla fine la spunta la cavese con un ribaltone rocambolesco in extremis, ma per quasi 90 minuti i leoni avevano addentato feroci gli aquilotti pavidi, tarpando nelle ali del sogno nomato Serie C. Nonostante debba fare i conti con la cronica emergenza, mister Valeriano Loseto predispone un 11 a corto e tetragono pronto a pungere Vespigno in controgioco quando se ne presenti l'occasione. Petrarca guizzante fra i pali, la Maginò arretrata e costruita su Gianfreda, Sillette e Tangorri, la regia equidistante passa dai piedi saggi di Lucchese, sorretto dalla corsa ubiqua di Capitan Mariani e dal Fosforo di Clemente. Cursori di fascia sono Rievolo e Chiaradia, davanti i muscoli all'estro di Cardone per il prepotente Figliolia. Emanuele Troise presenta la capolista con un reparto difensivo fondato su Maffei, Basile, Altobello e Magri. Nel mezzo a Ricamartrame, Aliperta, Cuomo e Mugnoz. Il truce tridente formato da Banega, Sfoggia e Bacio Terracino. Prima dell'inizio delle ostilità, commovente ricordo del piccolo Nico, l'angelo Pulcino Neroverde, nipotino del DS Leonardo Rubini e un bouquet di fiori per il calciatore Paolo Lomasto, ancora nel cuore dei tifosi locali, per la scomparsa dell'amata madre. Si parte e i 17 punti di differenza manco lontanamente si percepiscono. Minuto 4, traversa di Aliperta su calli da punizione chilometrica. Quattro primi dopo, Mancino Arcuato di Chiaradia smanaccia Colombo. Cardore al 22esimo sfonda sulla destra e calcia sull'esterno della rete. A dieci minuti dall'intervallo, Rievolo, esterno dal passo sicuro, si invola sulla destra e scodella, incornata a toni truante di figliolia e vantaggio dei padroni di casa. Subito dopo, Demi voleradente di Foggia dal limite, zompo salvifico di Petrarca. Ancora, Sibila accanto al montante un siluro di Aliperta. In pieno recupero, altro Mancino affilato e maligno dello scafato play, tuffo del goalkeeper Bitontino che respinge provvido. La pausa negli spogliatoi restituisce i protagonisti della contesa così come li aveva accolti. Campani in affannoso assalto, Pugliesi è serragliati nella metà campo con olimpica disciplina. Quinto, ancora a cross di Rievolo e piatto flebile di figliolia, pressato dai mastini avversi. Foggia all'undicesimo in becca arguto bacio terracino che svirgola il colpo al volo. Al ventitresimo, contatto illegale fra Cardore e Magri, ma non è giornata di fali laterali, figuriamoci di rigore. Poco prima della mezza, strappo nero verde col sinistro possente ma fuori misura di Chiaradia. E alla mezz'ora alta l'inzuccata di Magri. Il doppio giallo, combinato dall'incerto direttore di gara a Rievolo, muta bruscamente le sorti del match. Al trentanovesimo il pareggio ospite, piazzato dalla trequarti battuto furtivamente con un calciatore Bitontino dolorante ancora a terra e capo d'opera di destro di Foggia nel sette. Nel recupero, di sorprendenti dimensioni bibliche, prima calcio d'angolo perfido di Gagliardi e il guantone di Petrarca e la traversa salvano. Infine, il punto del successo biancoblu. Tuminelli riceve in aria e spara, l'estremo ex lecce respinge Felino, Gagliardi manda il cuoio a sbattere contro l'incrocio e poi nel sacco. All'ultimissimo respiro, la prova provata della confusione obnubilante nella quale galleggiava allegramente il signor Catanzaro di Catanzaro. Da fermo Lucchese mette nel mucchio, da cui emerge Stoico Colombo che, di pugno, si rifugia in corner. I dirigenti mettegliani, lieti dello scampato pericolo, esultano ed esaltano i loro guardiapali scuola Juve. Per l'arbitro, invece, e solo per l'arbitro, è una semplice rimessa dal fondo. Allucinante.